Oh, lei è la quindicesima volta, dai. Parla, vintesima volta. Signori, buonasera. Siete qui all'interno del volo, Claudio. Sì, va bene, dai che è poco tempo. No, allora, diciamo che parola che adesso lì al 3 ha scomparito e dopo ho un ritorno in scena. Adesso conto che a 3, in pieno ve ne dà lì, vabbè. Uno, due, tre, tre. Aspetta, te lo dico mio. Vai, vinti, vai, vai. No, no, parla. Bene, avete visto che sono scomparso? Ve l'avevo detto. E al mio tempo, ricomparirò uno, due, tre. Ecco, buon, lo vedete sorpresa comunque. Se mi ha detto, fa la pagina, papà. Buon ricomparso. Bravo, bravo, bravo. E' vale? C'è qua dire strutturi? E, no, me è dangoista questa è andata.